leo e la sveglia ciao leo che cosa ci costruirai oggi? è una sveglia! la costruiamo insieme? e allora iniziamo fissiamo i due piedi gialli sotto la grande cornice circolare arancione questi sorreggeranno la sveglia ora montiamo il cerchio bianco con i numeri ed ecco il retro della sveglia questo piccolo martello giallo va qui e colpirà i due campanelli arancioni producendo un forte suono che ci sveglierà a tutti queste sono due piccole corone per impostare l'ora giusta e decidere quando suonerà la sveglia ed ecco le due lancette fatto! è pronta! oh no! leo è vero mancano alcuni numeri non ti preoccupare andiamo a cercarli si eccoli leo abbiamo bisogno del numero quattro e del numero sette questo è il numero tre non ci serve ecco il numero quattro prendilo con te e portalo al parco giochi perfetto! ecco il sette! leo prendilo con te e portalo al parco giochi numero quattro e numero sette ora è completa tutti i numeri sono al loro posto e la nostra sveglia funziona perfettamente leo come sempre sei stato bravissimo alla prossima puntata leo e la piramide di anelli guardate! arriva leo il camion curioso! ciao leo! dove stai andando? è una sorpresa? ah! questi blocchi per le costruzioni sono molto belli! ci giochiamo? no? ok! cos'è questo leo? un nuovo giocattolo? leo ha trovato il piedistallo per costruire una piramide di anelli ora raggruppiamo tutti gli anelli colorati li puoi trovare leo? questo è il primo è il primo ed è rosso bello! eccone un altro! che colore è questo? arancione! e ora altri due di che colore sono? no? giallo e verde! continuiamo a cercare vedi quello azzurro sull'albero leo? prendiamolo! e anche questo blu! oh leo sei davvero forte! ora portiamo i cerchi al piedistallo! e ora ordiniamoli dal più grande al più piccolo! rosso! arancio! giallo! verde! azzurro! e blu! azzurro! fammi indovinare! come sempre manca qualcosa! puoi trovare l'ultimo anello? eccolo! eccolo! è viola! bel lavoro leo! azzurro! la piramide di anelli è completa! rosso! arancio! giallo! verde! azzurro! blu! e viola! leo! leo! abbiamo appena nominato tutti i colori dell'arcobaleno! siamo stati in gamba! leo! 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 che cos'è un blocco da costruzioni rosso lo vuoi portare con te che cosa sta portando leo giusto un blocco da costruzioni rosso e questo cos'è un blocco da costruzioni arancione prendiamo anche questo di che colore è questo blocco? sì è giallo arriva anche uno verde prendi anche questo c'è un blocco blu lo hai visto? e abbiamo preso anche questo bene andiamo allora leo giochiamo? scarica tutti i blocchi benissimo manca ancora qualcosa? leo ha trovato un blocco viola ora possiamo costruire una torre colorata mettiamo il blocco arancione sopra il rosso poi il giallo il verde il blu e il viola non è bella? che stai facendo leo? ti sta divertendo eh? ops oh non ti preoccupare ora costruiamo una cosa diversa quanti blocchi hai? uno due tre quattro cinque sei sono tanti che cosa possiamo costruire ora? vediamo rosso arancione giallo verde blu e viola ora abbiamo un'altra torre è sempre molto bella ma questa è più stabile ben fatto leo grazie a tutti